Questo video riguarda i migliori tre torce LED. Il vincitore della qualità è il Shadowhawk Torcia LED. La torcia LED potente professionale 10.000 lumen ha un brevetto UE. Con il chip P70.2, torcia tattica può raggiungere i 10.000 lm. Fornisce un raggio incredibilmente potente e 10 volte più luminoso della normale torcia. Usando una nuova batteria ad alta capacità da 5.000 ma 26.650, maggiore durata rispetto alla normale batteria da 5.000 ma fornisce fino a 12 ore di potente luminosità. La torcia ricaricabili ha tre modalità di luminosità e due modalità di emergenza. Modalità giornaliera. Alta, media, bassa. Modalità luce di emergenza. Strobo SOS. La torcia LED ricaricabile ha una funzione di visualizzazione della batteria in tempo reale. Possiamo controllare lo stato della batteria attraverso di essa. Questa torcia impermeabile è realizzata in alluminio di grado militare. Non solo robusto, ma anche impermeabile, antiscivolo e resistente agli urti. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Amzigu Torcia LED. Questa LED torcia con chip LED XHP70.2 avanzato integrato, torcia a LED stabile e più luminosa, può produrre una potenza ultra elevata fino a 10.000 lumen. Questa torcia LED potente professionale ha 5 modalità di illuminazione. Alta, media, bassa, strobo, SOS. Cambio di modalità semplice premendo leggermente il pulsante dell'interruttore. Questa torcia LED ricaricabile con una batteria ricaricabile 26.650, oltre a un cavo di ricarica USB in modo da poterla utilizzare non appena la ricevi. Questa torcia LED potente ha adottato batterie aggiornate. A differenza di altre torce, può essere sovraccaricata con le nostre torce ricaricabili e scaricata profondamente, ovvero più di 150.000 volte. La torcia LED alta potenza impermeabile IP67 può essere normalmente utilizzata in caso di maltempo come pioggia o neve. Si prega di non immergere in acqua per lungo tempo. Il vincitore del premio è il GearLight Mini Torcia. Con 300 lumen di potenza e il 20% più luminoso della maggior parte delle mini torce ordinarie. La nostra mini torcia LED per bambini può produrre un intenso fascio di luce fino a 200 metri. Lunga solo 9 cm, questa torcia LED sta nel palmo della mano. Grazie al design della clip portatile, questa mini torcia può essere comodamente messa in tasca o attaccata alla cintura o allo zaino. Realizzata in lega di alluminio di grado militare e acciaio LED con finitura anodizzata dura, la LED militare torcia è resistente all'usura, a prova di caduta e impermeabile. AI, Low, Strobe, tre modalità sono controllate con un solo pulsante. Zooming out per un diverso raggio d'azione. Tattica torcia LED leggera e pratica per il campeggio. La pesca, la lettura e altro ancora può essere portata e utilizzata ovunque. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.